Oggi ho avuto un importante incontro con il mio collega della difesa Gallant, che segue l'incontro che c'è stato nelle settimane scorse, prima del Presidente Meloni e poi del Ministro Tajani. L'Italia sta cercando di svolgere un ruolo in Medio Oriente per cercare di arrivare velocemente alla pacificazione sia a Gaza che in Libano. Abbiamo affrontato i due temi oggi. Siamo partiti dal Libano, dove ho avuto ancora una volta la garanzia che le forze armate israeliane in qualunque modo cercheranno di salvaguardare il contingente Unifil. Ultimamente comunque c'è stato uno spostamento verso nord, quindi di per sé la zona si è allontanata da quella che era il contingente Unifil, ma anche della loro intenzione ad andarsene via appena sarà possibile garantire che da quella zona del Libano non arrivino più attacchi sul suolo di Israele. Ricordiamo che nell'ultimo anno sono stati oltre 10.000 lanzi di razzo da parte dei Hezbollah. Dall'altra parte abbiamo parlato del futuro di Gaza, della possibilità e della necessità che la comunità internazionale si faccia carico di portare aiuti umanitari, ma anche di pensare al futuro, a una Gaza libera da Hamas, ma una Gaza dove si possa ritornare ad andare a scuola, riaprire l'ospedale e ad avere una vita normale per i palestinesi. Anche in questo l'Italia si è detta disponibile a giocare un proprio ruolo, come ha fatto adesso con gli aiuti, da full for Gaza agli aiuti medici con la nave prima e con i trasporti aerei negli ospedali italiani poi, a supportare il piano del re di Giordania per portare ai palestinesi, ma anche per costruire le condizioni perché il futuro Stato palestinese possa nascere. Per questo abbiamo parlato anche della possibilità dei nostri 200 carabinieri che formano le forze di polizia palestinesi. Diciamo un incontro a 360 gradi nel quale abbiamo ribadito tutti come obiettivo quello di far terminare la guerra e riportare la pace in questo luogo. Devo dire un incontro che mi ha lasciato molto soddisfatto.